E' una catastrofe, non usa mezzi termini, l'alto rappresentante per l'Unione Europea Borrell che accusa l'amministrazione americana e dice ora non lasciare spazio a Russia e Cina. Ce ne parla in diretta la corrispondente da Bruxelles, Marilu Lucrezio. Ho detto che occorre parlare con i talebani ma non riconoscere il loro governo. Lo ha ribadito, lo ha chiarito in un'audizione straordinaria l'alto rappresentante della politica estera Giuseppe Borrell. Ora però dobbiamo chiederci, dice in Parlamento, perché tutto questo è accaduto. Nessuno se lo aspettava, neanche i talebani credo. E' una catastrofe, non possiamo portare tutti gli afghani fuori dal paese. Poi critica il presidente americano Biden per aver detto il nostro obiettivo era combattere l'al-Qaeda, non costruire uno Stato. Parole discutibili, afferma Borrell. Sottolinea infine che l'Unione Europea continuerà con gli aiuti umanitari ma bloccherà i fondi allo sviluppo. Bisogna capire bene il comportamento di chi guida il paese. E aggiunge, non possiamo lasciare che Cina e Russia prendano il controllo della situazione in Afghanistan. Per ora è tutto da Bruxelles, linea Roma.